Ciao a tutti da Ciamatone, grandissima sorpresa, ecco i piccoli, la vincitrice di una ragazza per il cinema, Sofia Gheffo, ciao! Ciao a tutti! Salutiamo tutto il web, YouTube, Facebook, Twitter... Sì, saluto tutti e ringrazio tutti per la serata. Perfetto, e contenta? Sì, grazie. Ecco, allora, salutiamo tutti quanti e abbiamo una sorpresa, anche un altro vincitore... Ciao, Dennis. Dennis, e salutiamo tutto il web... Sì, YouTube, Facebook, Twitter, tutti i miei giornali del mondo... Ok, io ti ringrazio direttamente da... Salve e Pepe, ciao!